Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua in una nuova serie di Minecraft e ho pensato di iniziare una serie con la Technic Pack e spero vi piacerà. Quindi iniziamo subito, come al solito all'inizio magari sarà un po' noioso, però bisogna iniziare a raccogliere i primi elementi. Ok, il legno. Oh, bene. Ok, cominciamo a sformarlo, facciamo una Graffinitable. Ok, adesso cominciamo a farci gli attrezzi. Piccone. Spala. Nascia. Ok. Buona spada. Ok, perfetto, ci sistemiamo qua. Ok, almeno siamo un po' più veloci. Oh, molto meglio. Ok, prendiamo un po' di legna. Sempre comodo, poi andremo a cercare un posto dove costruirci la casa. Ok, direi che potremmo un po' passare. Anche il cibo. Se ci sono le galline, approfittiamone. Dove è finita? Ah, ecco. Grazie. Oh, meno male. Anche il maiale. Oh, cazzarola. Perfetto. Ah, la magia. Ok, allora adesso me la segno. Andiamo di prenderci il cibo. Perfetto. Perfetto. Il cinghialotto. Ok. Con C ci segniamo la coordinata, così più avanti torneremo. Alla magia. Ok. Ho visto delle mucche. Vieni qua, maiale. Devo fare un'altra spada. Ok. a prendere il cibo. Adesso andiamo a vedere. Dove costruire casa. Ah, vedo un vulcano. Stupendo. Ottimo. Devo dire che a me piace un sacco costruire la casa dove c'è un vulcano. Come... Non so se l'avete vista l'altra puntata dove ho mostrato la mia casa. L'ho mostruita sotto un vulcano. Anzi, più che sotto dentro. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere com'è questo vulcano. Vediamo dall'altra parte. Dall'altra parte vediamo migliore. Oh, già mi piace. Perfetto. Bene. Comincio a scavare qua per far caso. Anche se forse prima è meglio trovare della pietra per farmi un piccone più decente. Vediamo un po' qua. Se c'è della pietra. Ottimo. Bene. Comincio a farmi un piccone di pietra. Poi mi provo una bella miniera dove trovare tutti i materiali. Poi mi serve anche una fornace. Poi mi serve anche un piccone di pietra. La pietra ha fatto un dèbo. Un altro, ok, almeno scaviamo un minimo, più veloce. Sto scavando qui, la mia. Mari, l'entrata la faccio, la va sottoterra, così. Spero di non beccare la lava. Comunque, se state guardando questo video e volete vederli prima e siete sul canale di Minecraft Italia, vi consiglio di iscrivervi direttamente al mio canale, così magari le puntate usciranno anche con un giorno d'anticipo. Ok, ma vediamo un po', ma già potrebbe andare bene, la scendiamo ancora di uno. Perfetto, cominciamo qua a fare una, diciamo un atrio. Ferro, molto bene. Adesso magari non siamo troppo a curarla nei particolari. Vediamo un po', ma sì, qua. Inizia un po' ad allargarla. So che magari è un attimo noioso, però come tutti gli inizi, si inizia così, quindi... Non ci posso fare niente. Adesso magari, qua, mentre costruisco, velocizzo il video. Una bella fornaccia. Ok, un po' di carbone, così possiamo cucinarci. Il cibo, visto che ormai stavolta per morire, continuo ad allargare. Non ho ancora trovato neanche il carbone. Poi devo andare a cercare la lana per farmi un letto. Non cibo, come non cibo. E' così adesso. Ma cibo, come parla scendiamo. Un po' di carbone. Comunque se avete consigli o qualsiasi cosa scrivete nei commenti o mandatemi un messaggio Allora vediamo un po' allargo magari un po' questa parete e vado dall'altra parte e cominciamo a farmi una caverna per iniziare a trovare tutti i materiali Ok mangiamo questa morena di fame Ok la me la ho ancora di un cubo E farò una stanza dove potrò accedere alla lamiera Un po' massimo così Non è neanche tanto grossa Tanto Simplemente per andare in miniera Andiamo a farci un'altra palla Perfetto Magari faccio delle torce Scusatemi se non si vede bene Adesso vedrò dintro delle torce Ehm Ma come ci sono fini? Che fida cose sono Vabbè dettagli Ok Questi lupi mandano a male devo dire Ok allora mettiamo qualche torcia Vale qua l'ingresso Eccola Per iniziare Il copero Ehm Questa A A A A A A A A A Il piccone Di ferro Adesso vediamo Un po' Di farlo Allora Questo lo metto qui Il ferro Intanto ho un tiro Ok niente come prima puntata direi che può bastare qua Spero vi sia piaciuta anche se magari è un po' noiosa perché all'inizio Quindi se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace E iscrivetevi al mio canale Grazie e ciao